Eccoci fuori dal day 3 con i due italiani ancora in gioco, Niccolò Calia e Marco della Tommasina, vediamo un po' le prime impressioni alla prima pausa break. La prima pausa break già è positiva perché sono quasi in average, ho vinto un all-in contro Andy Black che è uscito e dopodiché non ho giocato nessun piatto, sto aspettando con santa pazienza la bolla salvo che non abbia delle mostre in mano. Tu Marco? Io sono riuscito a raddoppiare una buona mano con Donna Don e adesso sono sugli 85.000, comunque sono ancora short e la bolla si avvicina e si fa dura ma niente, noi giochiamo per i massimi quindi se dobbiamo giocarci il colpo in bolla ce lo giochiamo. Tutto l'Italia tipo per voi, quindi forza azzurri e ci rivediamo sempre qui da Villa Moura.